Il Signore è risorto, Egli è con noi, Alleluia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Cristo è risorto, è l'annuncio che oggi percorre tutta la terra. La vita vince sulla morte, è la parola buona che porta alla speranza, è l'amore che rinnova la nostra vita. Alla vittima pasquale si innanzi oggi il sacrificio di lote, l'agnella ha redento il suo greggio, l'innocente ha riconciliato noi peccatori col Padre. Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo, triunfa. Raccontaci Maria, che hai visto sulla viva? La tomba del Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto, e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. Cristo, mia speranza è risorto, e vi precede in Galilea. Signore, che nessun nuovo mattino venga a illuminare la mia vita, senza che il mio pensiero si volga la tua risurrezione, e senza che in spirito io vada, con i miei poveri aromi, verso il sepolcro vuoto dell'orto. Che ogni mattino sia per me, mattino di Pasqua, e che ogni giorno, ogni risveglio, con la gioia della Pasqua, mi ingiunga anche la conversione profonda, quella che sappia in ogni situazione e in ogni persona, conoscerti come vuoi essere conosciuto oggi, che ogni episodio della giornata sia un momento in cui io ti senta, chiamarmi per nome, come chiamasti Maria. Concedimi allora di voltarmi verso di te, concedimi di rispondere con una parola, dirti una sola parola, ma con tutto il cuore, Maestro mio. Oggi rinnoviamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Vogliamo raccontare le grandi opere che Dio ha compiuto per noi e professare la nostra fede nel Padre, amore onnipotente, nel Figlio Gesù morto e risorto per noi, nello Spirito Santo, che ci rende figli e fratelli. Credo, Signore. Amen. Credo, Signore. Amen. Io credo in Dio, Padre onnipotente e creatore del cielo e della terra. Credo, Signore. Amen. E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discesa agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte. Salì al cielo. Sieda alla testa di Dio, Padre onnipotente. Dillà verrà giudicare i vivi e morti. Credo, Signore. Amen. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Gesù è risorto. Alleluia. È sempre presente in mezzo a noi. Ci precede, ci guida, ci accompagna, ci protegge e ci dona la sua pace. Donaci, Signore, di cominciare oggi una vita nuova nel segno della resurrezione del Tuo Figlio. Fa che non ascoltiamo noi stessi i nostri sentimenti, le nostre abitudini, le nostre paure, ma che ci lasciamo invadere da quella pienezza di Spirito dono della Pasqua che diffondi nella risurrezione del Tuo Figlio, nel Battesimo, nell'Eucaristia e nel Sacramento della Riconciliazione. Signore, oggi, in questo grande giorno, siamo certi del Tuo amore e crediamo la Tua salvezza Cristo è risorto. Alleluia! Cristo è risorto. Alleluia! Cristo è risorto. Alleluia!